editoriale della domenica anticipato al sabato perché ho pubblicato tanto e voglio fare un contenuto per tenerlo un paio di giorni per dare la possibilità a tutti di ascoltarlo partiamo subito carichi sono veramente in forma questa settimana in forma smagliante partiamo dal sadismo del pubblico che vuole il sangue ma prima di arrivare ci parto alla lunga e vi voglio dire siamo in una in un momento in cui non bisogna più seguire un consiglio perché ne abbiamo avuti troppi dobbiamo sempre contestualizzare le frasi è sempre utile stare in ascolto anzi dobbiamo stare in ascolto degli altri per trarre le nostre conclusioni sugli altri sul mondo quindi respiriamoci la vita stiamo a contatto con i piedi per terra e con i sentori attivi occhio chino e mano vacante che è un motto napoletano che diciamo invita al furto occhio chino e mano pronta lesta a rubare ma questa la mettiamo diciamo a livello di di opportunità di vita quindi prendiamo il buono diciamo di questa affermazione ma siamo appunto in una situazione in cui abbiamo ricevuto troppi troppi consigli tutti ci dicono quello che dobbiamo fare sul web i parenti ma nessuno ha una bussola nessuno sa dove sta andando quindi dobbiamo riaccendere l'istinto e ciò che può essere utile per un'altra persona spesso e volentieri non è utile per noi minimamente non mi dilungo in esempi anche se ne ho tantissimi questo per arrivare al sadismo del pubblico l'altra sera ha fatto un editoriale notturno su s magazine il bondichele dove consiglia a jamil di lasciar perdere i dissing e di fare musica più sentita consiglio inutile in quanto jamil ha fatto un disco tutto sentito emotivo in cui si esprime e del disco che è andato peggio mentre quando fate i brani più da battaglia il pubblico è lì prendo spunto di questa cosa io ho commentato anche sotto ultimamente mi sto divertendo col mio account instagram a commentare laddove mi indigno che mi diverte proprio come cosa ho commentato dicendo jamil ha fatto un disco no quello che ho detto qui jamil stesso ha messo un like giustamente questo per dire ragazzi il pubblico in verità sta sempre lì a dire voglio vedere chi sei voglio vedere la tua autenticità prendiamo anche il caso di spender a nuova scena insomma ma la verità è che non è vero quando poi arriva il racconto intimo emotivo della persona è un momento ma poi basta non gliene frega niente le persone ti vogliono vedere sul ring che da prendi a cazzotti o che i cazzotti li prendi e più li prendi più resisti e più gode ma se troppo abbassa lo sguardo ma comunque poi se ne frega del fatto che una volta sceso dal ring magari vent'anni dopo ti viene il parkinson o hai dei problemi vuole solo intrattenersi avere lo show vuole il sangue quindi di conseguenza oggi come oggi dobbiamo un attimo renderci conto del fatto che forse dobbiamo andare appunto per la nostra strada anche pensando alle conseguenze perché altrimenti accadono cose atroci prendiamo la buonanima del povero jordan jeffrey suigida recentemente un ragazzo che ha dato tutto per per la causa per il rap per avere quel successo e che poi è discendento discendendo si è ridotto a appunto a prendere una condanna immeritata ingiusta per un crimine che non era neanche un crimine per una bravata che è diventata crimine pur di avere hype per mantenere quella roba lì quindi la 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 farsa la bugia del successo che ha distrutto letteralmente una vita io ne parlo così ma sento il peso di queste parole e tra parentesi domani c'è un altro funerale qui di una ragazza che poverina si è tolta la vita anche lei quindi togliamo questa catena di suicidi per favore e non ce la facciamo più io sono distrutto anche se cerco di farmi forza anche qui nel podcast domani andrò a fare i conti perché la ragazza mi ha fidanzato un mio amico di un mio amico che veniva l'entari con me eccetera eccetera e quindi insomma per farvi capire nel senso e anche qui la gente lì che voleva il sangue proprio che parla e ma perché così avevano problemi la coppia i figli fatevi cazzi vostri pensate pensate a voi sempre tutti lì a giudicare senza capire le scelte senza riuscire a mettersi nei panni e empatizzare ma perché perché noi come come società dobbiamo capire che ad oggi ciò che ci arriva dritti in faccia generalmente dà fastidio siccome non siamo abituati più nemmeno alle critiche non siamo più abituati a niente e io che di critiche ne ricevo tutti i giorni sono un po più abituato quindi magari riesco un po più a parlarne che succede che ci ritroviamo che ciò che ci è veramente utile ci diciamo ferisce quindi prendiamo l'utilità la buttiamo nel dimenticatoio e continuiamo a raccontarci cazzate io sono stufo perché le persone che si raccontano solo cazzate fanno dei danni alla verità se tu fai dei danni alla verità fai dei danni al karma e fai dei danni alle generazioni che verranno questo è fondamentale per capire quanto è nostro dovere civico non mentire a noi stessi ed essere onestamente intellettuali cioè o al contrario intellettualmente onesti quello che vi pare però è importante che quando qualcosa ci colpisce almeno ci ragioniamo la respiriamo e non andiamo subito a dire eh no sono le cattiverie non è così spesso e volentieri sono cattiverie spesso e volentieri sono cose su cui dobbiamo fermarci e capire se è una cosa una cattiveria una verità che ci sta invadendo fondamentale ragazzi fondamentale considerando anche il fatto che il mondo ci vuole buttare a terra ci tutti ci vogliono a buttare buttare loro cattiveria addosso e noi rischiamo di fare lo stesso quindi se vogliamo restare puri se vogliamo avere il cuore puro se vogliamo essere brave persone dobbiamo farci un culo come una casa e dobbiamo esplorare e capire i nostri nemici cioè il male perché le conseguenze sono in uno studio che ha portato repubblica dice che i giovani hanno tra i 20 e i 30 anni una crisi di mezza età ovvio ovvio perché prima erano dei maestri nel mettere la polvere sotto al tappeto e quindi a 20 anni ti sposavi primo problema coniugale facevi il figlio secondo problema coniugale altro figlio passavano 30 anni arrivi a ormai dice beh ormai stiamo insieme non puoi far più nulla perché io lo vedo con tante ragazze che per uscire a volte dal loro nido dove magari non stanno più bene col fidanzato di turno con cui la relazione è finita ma la loro vita è legata indissolubilmente al loro fidanzato perché l'amica sua è la sposa del ragazzo che è amico di lui insomma praticamente alla fine della fiera ti ritrovi più volte mi è successo almeno tre quattro volte negli ultimi tre anni che praticamente ragazze che magari venivano con me dopo un po devi chiudere perché perché la loro vita è talmente legata a un mondo legati ai suoi al suo passato che praticamente non riesce a vivere il presente questo è un esempio personale ma che posso veramente ampliare in mille modi e di conseguenza tornando al discorso principale quindi una volta che tu hai 30 anni di matrimonio con una persona quattro figli te la tieni per tutta la vita così funzionava queste sono vecchie regole che oggi non sono più adatte per fortuna ne siamo ne siamo consapevoli andiamo avanti quindi nella società in cui non tutti zitti il problema sussisteva fino a un certo punto a 20 anni inizi a lavorare tu sei l'ingegnere tu sei l'operaio tu sei quello e quello sei per tutta la vita e via suon di rimpianti che ci hanno detto a noi quindi devi studiare perché altrimenti ti passeranno sopra oggi una laurea sembra non contare più nulla perché ce l'hanno tutti e nessuno gliene frega niente di averla e soprattutto tanta gente si laurea in qualcosa per far contenti i genitori e poi vediamo e tutti con le crisi di mezza età perché poi magari arrivi a 26 anni che hai il lavoro dei sogni ma che non è il lavoro dei sogni o comunque arrivi a una certa età subito che guadagni 30 anni guadagni anche bene hai un lavoro hai una vita e tutto e poi che fai che ti inventi che devi credere in ideali in cui non credi più è tutto sdoganato non sai più che devi fare ti fai un cane ti fai la fidanzata fissa che manco ami e sei lì a fare i conti con te stesso quelli che hanno le vite impegnati impegnate che non fanno i conti c'è chi invece ha una vita relativamente libera e fa i conti tutti i giorni e vive crisi di mezza età continue io devo fare 30 anni tra qualche mese vi assicuro che di crisi mezza età ne ho già vissute diverse ma veramente ed è incredibile perché ciò cioè quando c'era il ragazzo che è l'uomo che a 50 anni impazzisce torna giovane e siamo noi ma perché perché a 20 anni abbiamo fatto i super uomini a 25 ci siamo messi in discussione ed è un meccanismo pesante ma la verità è che abbiamo un sacco di ragazzi che stanno distrutti perché non sanno che fare e il problema è del solito arrivismo che ho già condannato in passato arrivismo totale tutti arrivisti sono tutti quanti tutti oggi tu fai una cosa solo se puoi arrivare e va bene io sono il primo lo ripeto non sono qui a fare il fenomeno spesso e volentieri io se devo fare qualcosa devo competere ed è un problema perché perdi la voglia il desiderio di fare ringrazio questo monologato che mi dà la possibilità di farlo con passione ma anche di competere tutti i giorni col mercato per portare a casa la pagnotta e io lo ringrazio perché è un equilibrio perfetto che mi fa sentire vivo e ci godo e ci sguazzo e mi dà la possibilità anche di ampliarmi quando sento il bisogno in altre cose però per crearmi sta roba ci ho messo tutta una vita e da anni vado lì diretto ogni giorno su questo cazzo di microfono e tra parentesi la domanda è quanto durerà non il mercato quanto durerà questa passione quanto la fai durare perché per sempre è fatta di tanti piccoli ora e dobbiamo rendercene conto il discorso arrivismo è facile arrivare a al discorso del maschilismo sono stufo stufo di sentirmi dire questa parola quando non è reale ma anche di sentirla buttata lì sono stufo cioè ho espresso una mia opinione con 800 mi piace sotto gli audio di giro così freddi che dice a quella lì ho fatto pure l'audio prendi un po di cazzo ti farebbe bene e i primi commenti di ste ragazze che dicono solito maschilista medio ma che ne sai ma che cosa dici ma come ti permetti oltre al fatto che quando ricevi anche una sorta di shitstorm ha com'è una ragazza che gli dici hai bisogno di cazzo da denunciare chi l'ha detto ma tu che poi magari commenti e mi dici sei malato sei maschilista fai schifo a un po di pietà nei miei confronti non c'è e allora ho fatto questo gioco proprio a dire adesso dovrei denunciarti adesso invece no non me ne frega niente poi lavoro con un media capirete perché poi è nel senso magari mille persone ti dicono bravo quelle dieci persone ti dicono stronzo e noi ci concentriamo sugli stronzi no concentriamoci sui bravi anche è fondamentale ma io sono stanco perché il maschilismo innanzitutto perché femminismo è buono maschilismo è male prima cosa seconda cosa ma chi è maschilista cioè se maschilismo vuol dire donna va in cucina zitta lava ma chi 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 è che vorrebbe io io mi voglio lavare da solo quando mi ritrovo a casa che sto con mia madre ogni tanto quando non me ne vado dalle case da solo perché ho bisogno di tornare a casa mia e c'ho mia madre è un continuo è un continuo dirle non mi lavano mi cucinano mi rompe i coglioni ma chi la vuole una donna che si prende cura di te io voglio una donna da rispettare voglio una donna a cui fare a metà col conto se devo prendermi una casa che mi devo sposare paghiamo a metà la casa ma chi cazzo si vuole prendere cura di te perché tu devi prenderti cura di me no c'è questa canzone nuova dei tre relegri ragazzi morti dice l'amore è un pacchetto di caramelle prendila se ti va e invece no è che prima era tutto un equilibrio basato all'annullamento della donna come dandole tutto e dall'altra parte sarebbe sbagliato il contrario ognuno deve andare per la sua strada ma chi è che vuole essere maschilista chi lo è io mi sento offeso ma sarò libero di esporre una mia opinione sarò libero di dire per me questa roba qui non è molestia ma perché perché molestia vuol dire un'accusa pesante se io dico oh hai fatto una molestia la percezione che è stuprato qualcuno e poi una roba che si va sul penale deve essere un giudice a decidere non siete voi giudici voi non siete giudici di niente voi non sapete niente di legge siete solo degli ignoranti veri quindi basta dire anche dell'ignorante a una persona come me che non lo è oppure uno magari c'è un pensiero un po così ignorante io conosco gente che ha certe idee sul maschilismo piene di lauree uno può anche essere fascista e avere tre lauree non è ignorante solo fascista ma cazzi suoi cazzi suoi anche lì ognuno ha le sue esperienze le sue idee con la violenza con gli ideali politici con ma perché dobbiamo stare ad additare a dire io tra l'altro per me il femminismo è come il comunismo noi ci siamo ci siamo improvvisati comunisti in italia perché volevamo trovare voce all'antifascismo erano tutti comunisti ma il comunismo continua a recare da anni oggi perché esiste ancora i figli dei comunisti sono i putin cioè stalin i deliri che ha fatto lui ma veramente e anche lì è tutti a parlare anche della guerra ragazzi ci rendiamo conto siamo stiamo entrando in guerra guerra mondiale ci siamo tutto quanto per cosa per un conflitto che ci portiamo avanti da centinaia di anni e io non ci entro perché uno non sono abbastanza informato due non non è questa la sede opportuna ma tutta sta gente che parla che giudica ma può essere che sono tutti cattivi o sono tutti buoni può essere no nella guerra non ci sono buoni e cattivi nella guerra se uno vuole la pace deve semplicemente fare un passo indietro e le fare in modo che gli altri lo facciano se tutti fanno un passo indietro possiamo ragionare se putin e zelewski insieme fanno un passo indietro a testa allora possiamo ragionare nessuno vuole fare passi indietro è inutile ragionare e allora ecco la guerra ecco il conflitto punto ma siamo ma il problema sono loro ma noi parliamo un attimo di società parliamo un attimo del fatto che tutti quanti stanno a dire che chi ha ragione chi chi ha ragione cosa non esiste basta con questi commenti inutili così come il maschilismo tu che cosa sai della mia storia come ti permetti ridarmi del maschilismo solo perché ho detto rocco si freddi non è passabile di denuncia non vedo la molestia ma sei informato a livello legale non sei informato devi informarti sei un avvocato sei un giudice no e allora perché parli semplice ragazzi è tutto veramente semplice basta andare a prendere l'italiano il vero problema è che c'è un'assenza di cultura anche perché i cosiddetti professori hanno rovinato l'italia hanno fatto dei pessimi insegnamenti ci hanno in sei fatto imparare le poesie a memoria ma il ma loro non erano poeti non sapevano scrivere ci hanno bombato la letteratura e certi poeti che magari invece di letteratura non c'era da imbastirla così c'era da studiarla c'era da capirla ma facciamo dei laboratori scriviamo invece di studiare e basta quello che ci hanno detto così magari scrivendo capiamo di più facciamo manca la cultura in italia manca l'andare a vedere uno spettacolo di teatro manca l'andare al cinema a vedere film decenti perché il mercato ha preso il predominio e il mercato prende il predominio e chi è che fa il mercato chi fa i click chi fa gli stream chi decide e quindi di conseguenza si va a scapito della qualità chi nessuno sa quello che sta facendo a parte chi ci specula sopra e a nessuno gliene frega un cazzo del futuro stiamo tutti quanti a guardare il nostro presente perché lo spirito di competitività veniamo da un'epoca in cui tutti hanno ostentato tutto io se c'ho un pezzo di pane e so che dall'altra parte del mio cellulare c'è chi non sa mangiare con che coraggio per anni l'ho ostentato con che coraggio uno va al ristorante di pesce e mette le stories considerando che di là c'è qualcuno che magari non se lo può permettere perché perché c'è anche chi si può permettere tanto di più la rivalza sociale che la rivalza individuale che ha distrutto la rivalza collettiva siamo tutti quanti degli io ci siamo dimenticati di essere un noi perché non siamo più in ascolto e torniamo all'inizio dobbiamo essere in ascolto anziché stare a dare consigli o a sentirli cerchiamo un attimo di guardarci negli occhi quando è l'ultima volta che ti è stato chiesto come stai con sincerità tu che mi stai ascoltando quando è ma allora ti porgo un'altra domanda quando è l'ultima volta che tu hai chiesto una persona come sta quando solamente per il gusto di saperlo solamente perché sai che quella persona aveva bisogno di esprimersi e gli hai dato la possibilità di farlo quando io spesso mi sento colpevolizzato perché magari non ho fatto abbastanza per alcune persone e poi mi fermo e dico ma quella persona non ha fatto nulla per me cioè incredibile ci mi sto facendo dei problemi per per delle persone che per me non hanno fatto nulla eppure io ho fatto tanto ma mai abbastanza ed è sempre così vittime e carnefici siamo nell'epoca in cui i carnefici devono farsi sentire perché siamo stufi di essere additati come tali ma siamo le vere vittime segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente prime ascoltalo senza pubblicità su amazon music